Si sono celebrate le elezioni presidenziali in Venezuela e come molti temevano, si sono successi gli stessi disturbi di sempre, gli stessi incidenti di sempre. Perché non è da adesso, ma è da circa 20 anni, 24 anni, che c'è il chavismo e il madurismo al potere e sempre succedono brutte cose agli oppositori politici. In Italia molti appoggiano Maduro, molti hanno appoggiato Chavez perché credevano che era una valida alternativa allo strapotere degli Yankees. Però in Italia si può votare. Ecco, voi che ne pensate? C'è stato broglio elettorale in Venezuela? Scrivetelo qua sotto. Ci sono stati dei seri disturbi e hanno iniziato a fare la caccia alle streghe quelli del governo che avrebbe vinto le elezioni, arrestando tutti gli appartenenti all'opposizione politica a Ugo Chavez. Però molti dirigenti, molti primi ministri e molti presidenti di governi che non sono per nulla di destra hanno protestato come ha fatto Ignazio Lula da Silva, che di sicuro non è un presidente di destra o neoliberale, hanno protestato contro quello che è successo nel regime di Nicolás Maduro, che lui prometteva che se avesse perso ci sarebbero state lacrime e sangue o qualcosa di peggio. una guerra civile. Adesso il governo di Nicolás Maduro non vuole dare i comprovanti le cedole dei voti per fare vedere che realmente la gente ha votato. Voi che ne pensate? C'è stato un imbroglio? Sono dei voti surrettizi? Commentatelo qua sotto e condividiate questo video affinché anche altri possano dirci cosa ne pensano del voto venezolano. Com'è possibile che un presidente superati sette anni in due mandati costituzionali continui a essere da circa 24 anni presidente? È questa una democrazia o una dittatura. Capito? Ditemelo, commentatelo qua sotto. Ciao ciao!